Grazie a tutti il nostro corso 2020-2022 distinguishing market guests, ladies and gentlemen on behalf of the commandant, servicemen, and women civilian staff and your entire country community will very want to welcome you to that power menu for this dinner night in honor of our market training course 2020-2022 without much ado, we are quickly heading to what we have for the day like I said, it is God that has brought us here, it is God that has spared our life and we are going to want them to follow these names and thank them for the five years so at this point, may I request the imam may I request the reverend of the Protestant Church to follow and give us the open prayer as we commence our today's program the reverend of the Protestant Church the reverend T.J. Moses now we are going with chair well, my dear, you are of the José de 전og here is represented please thank you for all theena the amount of the center of the Protestant Church here is represented Iman, please, where are you? Iman, who's going to be here, is here a break. Iman, who's going to be here. grazie 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 e si è pronto in poi sarà ok ok e 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 Grazie a tutti. 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 Thank you. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 , , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , 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